Il premifinale di playoff, chi vince affronta la vincente di Napoli Ragusa e si gioca eventualmente lì un posto della massima serie del prossimo anno Contesa a centrocampo dopo il bel intervento a terra di Polvodetto contro Rodney Monroe che riesce a rubare la palla al più lungo Questo è un rigore Non lo sbaglia Rodney Monroe Venomenale